Sono con Donatella Spizzico di Pass4U ricevimenti ed eventi, è il primo anno che partecipate ad Oggi Sposi, una fiera importantissima per quanto riguarda il mondo dei matrimoni, come mai avete pensato di venire a questa fiera? Abbiamo pensato di venire anche a Genova per allargare un po' il nostro raggio d'azione e quindi per la prima volta abbiamo partecipato ad Oggi Sposi. Perché la vostra sede è alla Spezia, giusto? La nostra sede è alla Spezia, operiamo sul territorio da oltre 25 anni con direi un gran successo e quindi siamo venuti qui a Genova anche per proporre quelle che sono le nostre location sul mare, la zona di Porto Venere, l'Erici. Quali sono le location in esclusiva che avete? Allora abbiamo il Castello di Podenzana nella Lunigiana, una location veramente bella, il Forte Umberto I all'Isola Palmaria, il Porto Venere Beach e tante altre ancora. Parlo di quelle sul mare poi. Quali sono le richieste degli sposi? Le richieste degli sposi soprattutto sul mare direi perché viviamo comunque in una città di mare e soprattutto sul mare però anche nell'interno dipende poi dalla location, magari ti piace quella location che si trova all'interno in Lunigiana e quindi spesso poi è anche la location che fa e decide. Invece per quanto riguarda i menù quali sono le richieste principali? Oggi monto l'aperitivo rinforzato a buffet con antipasti, primi piatti di carne, pesce, gran buffet di dolci, soprattutto open bar perché oggi i ragazzi vogliono soprattutto divertirsi e quindi fare una grande festa.